L'ha scritto un ragazzo che si chiama David, il quale mi ha riportato un pezzo di Maria Valtorta, che io lo conoscevo molto bene, però che non avevo colto una riga che è molto importante. Dunque c'è da dire questo, che Maria Valtorta, lasciamo perdere il Vangelo così come mi è stato rivelato, che ha avuto delle riserve da parte della Chiesa, perché alcuni ritenevano questa opera di dieci volumi sulla vita di Gesù Cristo una specie di sesto Vangelo. Giustamente la Chiesa ha fatto notare che i libri di Maria Valtorta sono il Vangelo di Maria Valtorta, con solo parola di Dio come i quattro Vangeli, quindi non è il quinto Vangelo, quello di Maria Valtorta. Può essere utile a capire più profondamente il Vangelo, i quattro Vangeli che sono parola di Dio, quindi anche se è stato un aiuto magari sopranaturale, perché Maria Valtorta scrivesse queste opere, però comunque le opere sono di Maria Valtorta, non sono parola di Dio. Quindi quello. Ma queste cose, le prefozie sul futuro, Maria Valtorta, le ha fatte in un'altra serie di volumi, che si chiamano i quaderni, che sono dettati di Gesù. Su quelli la Chiesa mai detto nulla, quindi si possono tranquillamente leggere, come si può leggere anche il Vangelo, così come mi è stato rivelato, anche la Madonna Vetto si può leggere, quindi. Allora Maria Valtorta ha fatto una precisazione su quello che accadrà, che integra molto bene il progetto di salvezza di Maria da Fatima a Medjugorje. Cioè il piano di Maria da Fatima a Medjugorje è un piano ben preciso, che si sta realizzando ancora e che si compierà col decimo segreto, col triofo del cuore immacolato, quando allora si convertirà anche la Russia. Allora, Maria Valtorta, noi se seguiamo soltanto le rivelazioni di Fatima e di Medjugorje, non ci dicono nulla sull'anticristo, né lo affermano né lo negano. Invece Maria Valtorta inserisce in questa prospettiva, da Fatima a Medjugorje, dal 1917 a quando arriverà il decimo segreto, indica un tempo in cui si manifesterà l'anticristo e sarà nel tempo dei deci segreti. A mio parere questa rivelazione fatta da Gesù Maria Valtorta, a mio parere, va integrata in questo piano di salvezza che va da Fatima a Medjugorje. Allora, vediamo questo testo di Maria Valtorta tratto dei quaderni del 1943 al capitolo 103. Gesù dice a Maria Valtorta, ora siamo al periodo che io chiamo dei precursori dell'anticristo, siamo nel 1943, quindi quello è il periodo dei precursori dell'anticristo. Poi verrà il periodo dell'anticristo che è il precursore di Satana. Questo periodo quando verrà è alle porte, perché Valtorta dice che nel 1943 alcuni sono già vivi di quelli che vedranno l'anticristo. Quindi, per esempio, io sono nel 1943, potrei benissimo benissimo vedere l'anticristo, magari l'ho già visto, chissà. Ora siamo, perché non mi pare che Putin sia proprio quel cristiano che alcuni dicono, ora siamo al periodo che io chiamo dei precursori dell'anticristo. Poi verrà il periodo dell'anticristo che è il precursore di Satana. Questo sarà aiutato dalle manifestazioni di Satana, le due bestie nominate nell'Apocalisse. Sarà un periodo peggiore dell'attuale, peggiore di quello della guerra del 1943. Il male cresce sempre più. Attenzione, vinto l'anticristo col decimo segreto, verrà il periodo di pace per dar tempo agli uomini percorsi dallo stupore delle sette piaghe e della caduta di Babilonia di raccogliersi sotto il mio segno. L'epoca anticristiana, poi, l'ultima fase, dopo il tempo di pace, assurgerà alla massima potenza nella sua terza manifestazione, quando vi sarà l'ultima venuta di Satana e l'avvenuto di Cristo nella gloria. Dunque, cari amici, allora questo ragazzo David ha fatto le sue considerazioni. Io, partendo da questo testo di Maria Valtorta, che è un testo chiave, Maria Valtorta è anche, non è, diciamo così, è una, come dire, la sua rivelazione è proprio per il nostro tempo, cioè, fino alla guerra. E quindi, per questo tempo che è venuto dopo la guerra di secolarizzazione e di crisi della fede, che porta, che sta portando, diciamo, al tempo dell'epifania del male, al tempo anticristico, no? Quindi, lei, proprio alle soglie di questo tempo, ha avuto queste profezie, quindi sono molto, molto recenti, anche molto interessanti, anche molto verificabili nella storia e sono in sintonia col piano di Maria da Fatima Meciugorie. Allora io, cari amici, e questo lo trovate sul blog, la mia risposta a David, ho formulato una serie di punti, sono tredici, per la verità, potevano anche essere di più, però, per tratteggiare uno scenario che, come tutti i scenari profetici, cari amici, sono scenari, come dire, non vanno molto nei particolari, poi, come dire, le scene si riflettono l'una sull'altra, come nell'Apocalisse, vengono riprese di nuovo, però, a mio parere, la prospettiva di queste rivelazioni fatte dal cielo, cioè, Fatima Meciugorie, Maria Valtorta è una popoletese del nostro tempo, con discussioni, insomma, basta vedere il consenso che ha nel mondo cristiano, i suoi libri sono tradotti in dieci lingue, delle lingue principali del mondo, lettissimi dappertutto. Allora, cari amici, io ho preparato questi tredici punti in cui potete, in qualche modo, prospettare il futuro prossimo, con tutti, ovviamente, le riserve, perché nel futuro sappiamo quello che ci dice Dio, poi anche lì, quello che ci dice anche, diciamo così, la Madonna, quello che ci dice anche l'arrivazione di Maria Valtorta, sono ovviamente tutte preziose, ma, come dire, prendiamole, ma non con troppo, cioè, verifichiamo sempre quello che viene detto sul futuro con quello che accade nel presente, insomma, perché il futuro è già nel presente, allora verifichiamo. Allora, primo, il momento in cui la Valtorta scrive è il 1943, che sarebbe il tempo dei precursori dell'Anticristo, tuttavia viene specificato da Gesù a Maria Valtorta che alcuni di coloro che vedranno i tempi dell'Anticristo sono già al mondo. Qui nel 1943, io per esempio ero nato nel 1940, io sarei uno di quelli che nel 1943 ero già al mondo e potrei essere uno di quelli che vedranno i tempi dell'Anticristo, detto in parole poveri. Numero due, il periodo dell'Anticristo, secondo la Valtorta, si colloca nel tempo dei Deci Segreti. Il vicario di Satana sarà supportato dalle due bellezze dell'Apocalisse, il potere umano assoluto e la falsa religione. Dunque, il periodo dell'Anticristo è nel tempo dei Segreti, credo dal quarto al decimo, non credo prima o forse anche prima, non lo sappiamo, però è certo che il suo potere verrà distrutto nel tempo dei Segreti. E difatti, quando si completerà con il decimo segreto la distruzione del rio dell'Anticristo, il mondo rimarrà sbigottito di fronte a questo evento, inaspettato e ritenuto impossibile. Lo dice Maria Valtorta stesso, vinto l'Anticristo avrà il periodo di pace per dare tempo agli uomini, percorsi dallo stupor delle sette piaghe e della caduta di Babilonia, di raccogliersi sotto il segno mio. Terzo, quindi cari amici, chi supporta l'Anticristo? Cosa è? Chi supporta l'Anticristo? L'Anticristo verrà supportato. Chi è l'Anticristo? E' il rappresentante del potere umano assoluto, che potrebbe aver convinto le potenze del male a pacificarsi, a fare un patto fra di loro, in parole povere Washington, Mosca e Pechino, fanno un patto fra di loro per assicurare il futuro del mondo, sul periodo della scienza e della tecnica, eliminando tutte le religioni. Potrebbe l'Anticristo fare questo miracolo? Certo che lo potrebbe fare. A Satana interesserebbe molto questo, perché in questo modo le potenze, il potere umano assoluto potrebbe costringere le religioni e quindi anche la Chiesa Cattolica a essere uno strumento di supporto a questo potere, che divinizza l'uomo al posto di Dio e quindi o la Chiesa Cattolica accetta o viene perseguitata. Quindi o l'apostasia o la persecuzione. Dunque, il periodo dell'Anticristo, secondo la maltorra, si collega nel tempo dei dieci segreti. Il vicario di Satana che è l'Anticristo sarà supportato dai due besti dell'Apocalisse, il potere umano assoluto e la falsa religione. Terzo, sono gradini di riflessione. I punti sono gradini di riflessione. Terzo, quindi è possibile ipotizzare che nel tempo dei segreti, per evitare la catastrofe di una guerra nucleare, le potenze umane troveranno la soluzione di una falsa pace, un accordo fra i potenti, sul governo del mondo, in nome della scienza e della tecnica. Questo è possibile perché è nella scrittura già, è San Paolo. Quando diranno pace allora si scatenerà il finimondo. Quarto, sarà in questo periodo, nel tempo dell'Anticristo, cioè nel patto fra le grandi potenze di non fare una guerra nucleare, ma di patteggiare una base comune soddividendosi diciamo il potere, la torta, per così dire, il governo del mondo, mettendolo in mano a un personaggio che è al di sopra delle parti, che è l'Anticristo. Sarà in questo periodo che si imporrà la Chiesa, che si imporrà alla Chiesa la scelta fra l'adesione a questo progetto, cioè il potere umano, hanno fatto un patto per cui sarà l'uomo governare il mondo senza religioni, i religioni dovranno essere a supporto di questa scelta, allora la Chiesa Cattolica in questo momento dovrà scegliere fra l'apostasia, cioè aderire a questo patto, o la fedeltà a Cristo e subire la persecuzione. Sono tutti gradini di riflessione. Quinto, tuttavia la pace d'Anticristo durerà poco. Il crollo avverrà per una implosione interna, ovviamente, e quindi l'inizio di una nuova guerra, o per altri motivi, come eventi catastrofici della natura, sono gli eventi dei segreti, che riguardano la Chiesa e il mondo, la guerra e la persecuzione alla Chiesa. Sesto, alla fine dei segreti inizierà il tempo della pace, che coinciderà con il trionfo del cuore ma crollato di Maria. Poi, noi non sappiamo come crollerà il mondo nuovo senza Dio, ma a mio parere, l'ho già spiegato in alcuni editorialini, che il mondo nuovo senza Dio crollerà perché la gente stessa diserterà la guerra. A riguardo, dunque, crollato il regno dell'Anticristo con il decimo segreto, cosa accadrà? Le parole della Valtorta sono queste, vinto l'Anticristo verrà il periodo di pace, per dare tempo agli uomini percorsi dallo stupore delle sette piaghe, cioè i sette fragelli, dal quarto al decimo sono i sette fragelli, gli uomini stupiti dalle sette piaghe che sono state previste tre giorni prima e dall'accaduto di Babilonia, cioè il regno dell'Anticristo è la Babilonia del capitolo 17 dell'Apocalisse, in questo momento quando questo è accaduto gli uomini si raccolteranno sotto il seno di Maria. Il seno di Maria cosa può essere? Lei stessa sotto il suo amato o sotto il seno di Meggiugorio potrebbe anche essere. Quindi, cari amici, vinto l'Anticristo verrà il periodo di pace per dare tempo agli uomini percorsi dallo stupore delle sette piaghe e della caduta di Babilonia di raccogli sotto il mio segno. Ottavo, nel tempo delle sette piaghe, cioè dei segreti dal quarto al decimo, cronerà il mondo nuovo senza Dio, cioè la nuova creazione anticristica, Babilonia la grande prostituta, tra lo stupro dei superstiti che si raccoglieranno sotto il seno di Maria, cioè quello su pobordo, non lo sappiamo cosa vuol dire questo esattamente. Nove, a questo punto, cari amici, c'è da fare una precisazione molto importante, a questo punto c'è da precisare che chi conosce quello che concretamente accadrà nel tempo dei segreti sono solo i sevegenti di Međugorje, cioè i sevegenti di Međugorje conoscono i dieci segreti e sanno quello che concretamente accadrà nel tempo dei segreti sono loro che lo sanno, quindi è già stato rivelato sanno di ogni segreto a parte i tre del decimo non lo sanno ancora i tre che hanno le apparizioni quotidiane di ogni segreto i sevegenti sanno che cosa è quello che accade dove accade e quando accade l'ora e il minuto e quanto durerà lo sanno di tutti gli eventi dal primo al decimo quindi a questo punto c'è a precisare chi conosce quello che concretamente accadrà nel tempo dei segreti sono i sevegenti di Međugorje decimo non viene specificato quando durerà il tempo della pace divina sulla terra la Madonna in un messaggio accenna a questo secolo precisando che se accogleremo il re della pace il tempo di questo secolo sarà un tempo di pace e di prosperità l'ha detto il 25 dicembre del 1299 quindi quello che il tempo della pace sicuramente secondo questo messaggio si realizzerà in questo secolo 11 la fase finale della storia della salvezza sarà contrassegnata dall'ultima venuta di Satana cioè Satana secondo la Valtorta tre manifestazioni la prima è nella vita pubblica di Gesù la seconda nel tempo dei segreti l'anticristo la terza l'ultimo attacco di Satana direttamente a Israe l'umanità quando verrà Cristo nella gloria questa fase sarà quella che provocherà la più grande persecuzione anticristiana 12 la storia della salvezza terminerà con la venuta di Cristo nella gloria la risoluzione dei morti e giudizio e giudizio finale 13 Gesù rivela a Maria Valtorta che questa prospettiva che vi ho accennato adesso è quella dell'Apocalisse con questa precisazione cioè Gesù parlando della Valtorta riguardo all'Apocalisse dice anche nell'Apocalisse pare che i periodi si confondano ma non è così sarebbe meglio dire si riflettono nei tempi futuri con aspetti sempre più grandiosi dunque praticamente a quelli che dicono ma voi cosa state inventando diciamo a parte le rivelazioni mariane Fatima e Međugorje Fatima è comunque prebata dalla Chiesa a parte Maria Valtorta che comunque ha una stima notevole da parte del popolo di Dio c'è il fatto che secondo proprio quello che dice Gesù a Maria Valtorta e cioè tutto quello che tutti quei punti che vi ho detto alla fine si ritrovano tutti dall'Apocalisse quindi fanno parte della divina rivelazione comunque fanno parte anche del Catechismo della Chiesa Cattolica nei suoi quattro punti dove parla appunto dell'apostasia finale della persecuzione finale della Chiesa della massima impostura che era l'Anticristo e della vita di Cristo nella gloria tutte cose di cui parla il Catechismo della Chiesa Cattolica in quattro punti ben precisi dove è riassunta l'Apocalisse quindi siamo in un quadro dottrinale molto solido non c'è dubbio al riguardo la parola di Dio l'attivisione della Chiesa il Catechismo della Chiesa Cattolica quello che vi ho detto di questi dodici punti è tutto è incorniciato in questo tessuto dottrinale che è molto interessante cari amici allora questo lo trovate nella mia risposta a David sul blog è blog di Padelivio.it se usate Google oppure se usate il sito ardomari.it in alto c'è il blog potete entrare nel blog di Padelivio.it